Ciao a tutti! Arriviamo! Non ho imparato niente ancora, non ho imparato niente ancora. Ciao, benvenuti ai 5 minuti di Fatte da un Cullo. Siamo qui in diretta, no in diretta, vabbè, come al solito dalla Università degli Studi dell'Aquila, più precisamente dalla fila per la macchinetta del caffè alle Uri. 2-1-4. 2-10, che è praticamente la vostra fissura, sarebbe la passeggiata. Oggi abbiamo un sacco di novità, intelligenti in modo artificiale e anche intelligenti in modo umano. Sì, con le quali hanno imparato a impilare i vassoi sulla mensa. Che non è poco. È tantissimo. Per la gioia delle signore, di che lavorano. Abbiamo imparato la differenza tra l'intelligenza artificiale e un programma normale. e poi dobbiamo lanciare la nuova linea di agendine fatte a mano e blocno adesso di carta di qualità fatte dal mio amico Michele. Michele. Come vi ho invito a parlare con un po' inquirino Michele Lamalva, che salutiamo. Ciao Michele. Se vedi questi video, mi raccomando, fatti sentire. e quindi Alberto sta per rilanciare una linea di prodotti fatte a mano, cioè agende e blocnole. Sì, quando inizierò a farle il che significa, quando avrò voglia di iniziare a farle. Noi da direttamente, voi mandate le richieste che le facciamo subito subito, come le volete, rosse, gialle, verdi, con la tetica, senza tetica, con fatte d'un culo, senza fatte d'un culo. Immagini personalizzate, siamo aperti a quello che vi pare. Con logo, senza logo, di seta, di lana, di pellicciozzo, di biscotti, di cashmere volendo. Quello che volete, quello che volete. Fatecelo sapere. Fatecelo sapere, così Alberto si mette all'opera. Sì, giusto. Perfetto. E che dire, di più bisogna andare a prendere la tessera della mensa. Ricorda, metti nell'azienda immaginaria che devo andare a prendere la tessera, domani se no non mi fanno bagnare. E sarà per la fila. La vita è un'antiesa continua, però ce la faccio via bene, questo è quello che conta. Sì, prendersela bene risparmia un parchio rotto dedicato. Poi tu forse non lo sai, ma quando uno sorride, contrai meno muscoli rispetto a che se uno ha l'espressione seria si faccia. Sì. Se uno sorride sta più rilassata, spreca poi l'energia paradossalmente. Sai, allora famosa la via bene. Vedi quanta psicologia e il benessere che ti provina ogni lunedì. È vero? Fortuna che ci stai. Hai visto? È un piacere, è un piacere ritrovarsi a pranzo per scambiarsi queste gioie uniche. Sì, lo è. È un piacere molto grande. È un piacerone. Non sembravamo convinti, ma lo siamo comunque. Almeno io lo sono. Siamo troppo convinti. Stiamo perdendo anche il segno alla fila qua. Eh, certo. O ci vogliamo mettere in là così appena caricano. Troppe cose che ci appena. Vieni qua, così almeno caricano. Quando non si hanno ricaricato, secondo me si spicciano prima d'oro. Secondo me sto capo che mi sorprendiamo. Secondo me si spicciano prima d'oro. Come i soldi? Ah, si spicciano. I caricatori. Ringraziamo anche Sogeta che ci supporta tutti i giorni, eh. L'università con i suoi caffè top. I suoi cantuccini a 15 centesimi, grazie. E' chiaro, il caffè... Non l'ha mai assaggiato, lo sai. Ci dovrà essere la prima volta, un giorno ci dovrà. Ci dovrà. Il giorno che finirà talallucci e vino, sappiamo da prendere talallucci. Talallucci. Ma sono cantucci, non torallucci. Ma sono perucci, sono. Eh, sì. Eh, ma non ci utilizziamo troppo, ma torallucci, cantucci a... Eh, beh, c'è una bella differenza. L'importante è il vino, dai, lo sappiamo in bravo. Il vino, sì. Lo sanno anche gli spettatori. Lo sapete, sì. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.